A Marnio, al Pian delle Betulle, un prestigioso, un importante evento sportivo domenica 20 agosto, i campionati italiani di corsa in montagna. Qual è il programma e quali protagonisti? Il programma inizia alle 9 e mezza con la gara Juniors, alle 10 ci sarà quella femminile assoluta e alle 11 e mezza quella maschile assoluta. Quest'anno è una gara importante perché è la seconda gara di campionato italiano, quindi viene assegnato il campionato italiano in questa gara per la corsa in montagna. Hanno già confermato alla presenza tutti i più forti atleti italiani, sia maschile sia femminile, quindi avremo tra i più forti atleti al mondo a Pian delle Betulle domenica mattina. Come saranno organizzati i percorsi di gara? Un percorso sale fino all'Alpe Ortighera, quello del giro più piccolo e ritorna a Pian delle Betulle. L'altro invece arriva fino quasi all'arice bruciato, poi va sul Cimone e scenderà dalle piste da sci, per cui sarà estremamente spettacolare la discesa, visto che i tecnici della squadra nazionale hanno proprio voluto espressamente avere una discesa molto tecnica. La salita, per quanto ci saranno 350 metri di dislivello, ma è più distribuita rispetto a quel che sarà la discesa e sarà facilmente visibile il percorso. Da quanti a quanti chilometri di gara? Le ragazze juniors percorreranno circa 4 chilometri e mezzo, le ragazze donne femmine e i master sui 7 chilometri, gli assoluti loro percorso è tra i 10 e gli 11 chilometri. Chi sta organizzando e da quanto questo evento? La cosa è partita da settembre dell'anno scorso, ottobre, perché appunto bisogna fare la domanda per avere la gara, l'omologazione del percorso, bisogna poi trovare la collaborazione che per la verità è stata piena sia del sindaco di Marnio, del sindaco di Crandola, del sindaco di Casargo, c'è stata la società di Corte Nova che sono stati degli splendidi collaboratori e organizzatori di questo evento, c'è stato un grosso entusiasmo che ha portato, speriamo, a una bella giornata di sport. Noi aspettiamo tanta gente a Piandere Betul, è un sito bellissimo, tranquillo, quindi è un sito adatto a tutti.